Musica Cari telespettatori, rieccoci come sempre nello spazio dello SPCGL del Veneto, parliamo anche con la CGL e parliamo in modo particolare quest'oggi come ormai tradizione da molto tempo di legalità, questioni di legalità ma anche di giustizia sociale perché sempre il sindacato ci tiene a questi che sono anche principi etici, principi fondamentali su cui si legge anche la nostra vita sociale e nello Stato ma ci sono anche tante iniziative che vengono fatte periodicamente per ricordare l'importanza della legalità a tutti i livelli di tutti gli ambiti e per ricordare anche i tanti fatti gravi che si sono verificati nel tempo e che devono in qualche modo essere anche da monito per cercare di indirizzare anche le nuove generazioni verso i principi di legalità in generale, anche la lotta contro le mafie e non solo, contro atti di terrorismo e quant'altro. Per parlare di questo, per quel che riguarda il sindacato della CGL abbiamo Silvana Fanelli, ben ritrovata, grazie di essere qui con noi, per quel che riguarda invece lo spicigelle del Veneto della segreteria abbiamo ben ritrovato Massimo Cestaro, grazie anche a lei. Allora stavolta però incominciamo, anzi poi onora le signore, però comunque cominciamo con il sindacato della CGL perché ci sono state diverse iniziative che avete intraprese in questo periodo e voi volete ribadire anche il concetto, fosse mai sufficiente farlo, che il sindacato deve essere anche presidio di legalità, anche con le giovani generazioni, ma forse questo non è stato sempre ben compreso. Sì, è un lavoro che la CGL mette in campo dalla sua Costituzione, dalla sua nascita ed è un fatto assodato che il sindacato, il sindacato confederale e la CGL sono presidi di legalità, tanto che proprio su questo principio viene riconosciuta la missione come parte civile del sindacato confederale e della CGL nei processi anche alla criminalità organizzata, proprio perché è dimostrato nei fatti che dove c'è la criminalità organizzata il sindacato viene tenuto ai margini, si creano le condizioni per non far entrare il sindacato nei luoghi di lavoro o nella società civile. Quindi per noi è, come dire, non quasi, è un obbligo statutario il presidio della legalità, inserito nello statuto della CGL ormai da decenni, così come l'attenzione alla infiltrazione e al radicamento della criminalità organizzata attraverso anche l'azione di costituzione di parte civile nei processi che vengono, come dire, istruiti nei vari territori e purtroppo anche nel nostro Veneto ormai di questi processi ne abbiamo 7-8 in corso nei quali siamo presenti. Esatto, io proprio stavo pensando al fatto che voi vi costituite per le varie questioni di parte civile, anche il sindacato ai pensionati peraltro, abbiamo anche una situazione recentissima dopo magari possiamo anche entrare nel merito, perché sempre di legalità si tratta, cioè magari non ha carattere mafioso o terroristico, però sempre di legalità, parliamo delle case di riposo. Ma che valenza viene ad avere? Anche il fatto di costituirsi parte civile, anche come monito o come, non è tanto un gesto, ma qualcosa che va oltre il fatto in sé per sé di ottenere un eventuale risarcimento e per chi ne fa parte? Sì, beh, l'obiettivo non è quello di ottenere un risarcimento, poi negli atti quando ci si costituisce va richiesto anche un risarcimento sui quali poi come organizzazione noi ragioniamo per quando poi otteniamo quei risarcimenti, perché il percorso è molto lungo per poi rimetterli in circolo, in attività che hanno a che fare con il rispetto della legalità. La valenza è una valenza, come dire, sociale, culturale, molto importante, perché è l'espressione di una società civile che non si piega alla criminalità organizzata, che ci sono degli anticorpi, corpi, per questo noi da anni sosteniamo che non possiamo restare in solitaria come organizzazioni sindacali confederali a costituirci parte civile, perché la criminalità organizzata, la mafia, fa un danno a tutto il sistema sociale ed economico di un territorio e quindi dovrebbero essere molti altri pezzi anche della società civile che iniziano a costituirsi, perché è un segnale di contrasto che una cultura dell'illegalità non attecchisce in quel territorio, quindi come il lavoro che viene fatto, di cui poi parlerà anche Massimo, nelle scuole con i giovani per far crescere questa cultura della legalità. Come diceva Caponnetto, i mafiosi temono molto di più la cultura, la scuola e l'istruzione che non le forze dell'ordine e i tribunali, ecco, perché la crescita culturale è quella che è il principale anticorpo all'illegalità. Infatti vediamo dove questa non c'è, perché invece c'è il timore, c'è l'erradicamento del sistema malavitoso, non avendo collaborazione nella popolazione o connivenza, paura, eccetera, purtroppo prospera la situazione malavitosa di vario genere, l'illegalità. Qui stiamo vedendo una manifestazione, quella di Milano del 21 marzo, se non ero, 2023, cioè la 28esima giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Sì, quest'anno si è finalmente potuti tornare a fare una grande manifestazione nazionale in presenza rispetto agli anni della pandemia, nelle quali si era optato, libera, aveva optato per manifestazioni a livello regionale, è stato scelto un luogo del nord Italia, è la seconda volta che si svolge nel nord Italia, perché ricordiamoci che nel 2019 questa grande manifestazione nazionale è stata fatta proprio a Padova. Adesso è stata scelta Milano perché il radicamento della criminalità organizzata è sempre più pervasivo proprio nelle regioni del nord, perché c'è, come dire, un'economia fiorente, perché ci sono molti fondi che arrivano anche dal PNRR, dai fondi europei, insomma pensiamo al tema delle Olimpiadi, fondi che arrivano in queste regioni, in queste parti dell'Italia e poiché la mafia, la criminalità organizzata ha cambiato pelle, non è più quella della, come si usa dire, della coppola e della fucile a canne mozze, si infiltra dove c'è, come dire, un'economia fiorente dove si possono fare affari molto importanti. Ecco, qui vedevamo appunto nell'immagine poco fa, nella slide riassuntiva, perché è stata scelta in modo particolare la città di Milano, oltre a quello che lei diceva, ci sono dei fatti, forse è bene anche ricordarli, no? 1993, attentato di Cosa Nostra in via palestra a Milano nell'ambito della strategia stragista. Sì, fa parte di quella fase diciamo cruenta messa in campo appunto dalla mafia che ha visto fatti attentati e fatti di questa gravità e di questo livello percorrere tutta l'Italia, perché ci sono stati fatti di Palermo con i giudici Falcone e Borsellino, ma poi ci sono stati gli attentati a Roma, gli attentati a Firenze e poi l'attentato appunto a Milano, quindi una fase davvero cruenta che però ha visto la società complessivamente del nostro Paese reagire nel modo insomma corretto, perché da quella fase è uscita come dire un'attenzione è anche una presa di coscienza della pericolosità di questi fenomeni in tutto il Paese che forse fino a quel momento non era emersa, insomma ricordiamoci le manifestazioni delle persone normali a Palermo, a Roma all'indomani di questi fatti insomma che erano degli, sono stati degli eventi che hanno segnato proprio un cambio di passo. Infatti assolutamente, questo è importante, ricordiamo l'altra data 1992, l'inchiesta manipulita della Procura di Milano fa emergere un sistema corruttivo che era diventato ormai la prassi, mafia e corruzione sono facce della stessa medaglia e questo è un altro aspetto, tira fuori l'aspetto della corruzione che non si sarebbe pensato tutto sommato, no? Sì, è un fenomeno che non è solo legato come si dice qui al tema delle mafie e della criminalità organizzata, però è un fenomeno di illegalità che determina un territorio, un humus favorevole anche all'insediamento della criminalità organizzata e questo è uno degli elementi come dire ancora preoccupanti perché i fenomeni corruttivi insomma sappiamo che non si sono molto attenuati, abbiamo visto nella fase diciamo immediatamente successive all'inchiesta manipulite una maggiore attenzione, certo sono state fatte delle normative di legge, degli interventi importanti però questi fenomeni corruttivi purtroppo li rileviamo insomma ancora oggi e quindi ancora tanta strada c'è da fare per far crescere questo senso civico perché ricordiamoci che dietro questi fenomeni poi c'è un sistema sociale ed economico che viene indebolito e che poi ricade come dire su tutti i cittadini e su tutte le cittadine perché vuol dire anche minor qualità dei servizi, minor qualità delle strutture e quindi come dire un danno per tutta la popolazione, per tutte le persone. Assolutamente, più recente 2010 arresto di 150 persone nell'ambito dell'operazione crimine infinito contro l'Andrangheta calabrese e le collegate cosche milanesi e questo forse è uno dei, non il primo però, però uno dei primi eclatanti in cui emerge una città del nord coinvolta infatti di mafia. Sì, è stata un'operazione come dire che ha un po' scioccato, scioccante, alla quale però ne sono seguite altre perché ricordiamoci che poi c'è stata la vicenda in Emilia che ha dato come dire il via ad un'operazione, ad un processo, il processo Emilia che è il più grande processo di mafia in Italia, è stato il più grande processo di mafia in Italia, si è svolto in Emilia Romagna, non si è svolto in Calabria o in Sicilia e poi a seguire anche in molte altre regioni. Il tema è che ormai qualsiasi indagine, qualsiasi operazione anticrimine in questo ambito quasi sempre vede coinvolte o vede delle namificazioni in città, in province, in regioni del nord Italia anche se partono come dire dalla Calabria piuttosto che dalla Sicilia piuttosto che da altri territori del sud, il legame con regioni, province e territori ricchi del nord emerge quasi sempre con persone conniventi, con aziende come dire che fanno, che mettono in atto quella pratica della false fatturazioni, con professionisti come dire che si prestano a queste situazioni e quindi l'intreccio è sempre più radicato e non possiamo più parlare semplicemente di infiltrazione. Abbiamo un'altra slide, 2013, Lea Garofalo, testimone di giustizia uccisa dal marito nel 2009, è cittadina onorale di Milano, 2023, oggi l'unico dottorato di ricerca in studi sulla criminalità organizzata è incardinato presso l'Università Statale di Milano, questa è una cosa recentissima e poi ricordiamo le Olimpiadi che ci sarà Milano-Cortina, le grandi opere stanno portando un flusso ingente di denaro e risultano essere già nel mirino degli interessi criminali mafiosi quindi questo è anche un alert, no? Sì, è un alert di cui abbiamo avuto segnali anche nel nostro territorio perché ricordiamo che prima delle Olimpiadi ci sono state nella nostra regione i mondiali del 2021 e già in occasione dei mondiali che erano lavori come dire poi propedeutici anche alle Olimpiadi abbiamo avuto nella provincia di Belluno delle interdittive antimafia che sono uno strumento importantissimo in mano delle prefetture di analisi e di come dire di attenzione per evitare appunto poi il radicamento. Su questo tema sono mesi che cerchiamo di incalzare la regione Veneto per fare un protocollo unitariamente con le organizzazioni sindacali CGL e Cisleguina non riusciamo ancora a far breccia perché è vero che esistono protocolli fatti dalla regione con le forze dell'ordine, con le prefetture però non dimentichiamoci che c'è tutto il tema del lavoro, della legalità nel lavoro, di evitare lo sfruttamento, il dumping contrattuali e questo per noi è un tema ancora aperto sul quale non riusciamo ad avere risposta. Adesso andiamo in pubblicità, poi ci sono un'altra cosa interessante, sono le segnalazioni delle operazioni sospette perché queste possono poi aprire anche le inchieste, indagini e quant'altro ne parliamo subito dopo la pubblicità, tra poco.